Ciao a tutti amici e amiche di Volumbrite, siamo qua al Palatazzoli oggi per la quarta e penultima giornata del torneo internazionale di Parais Hockey, abbiamo qua l'assistente allenatore Carlo Mur, volevamo chiederti, intanto considerazioni sulla partita, è stata una vittoria schiacciante con un finale esplosivo di un ultimo gol a un secondo dalla fine, cosa ne pensi? Ma è stata una bella partita e ovviamente siamo contenti di arrivare in finale nel torneo che si gioca qua in casa, si è stati bravi a gestire poi anche un po' il risultato perché un 3 a 1 puoi chiuderla definitivamente oppure puoi riaprirla un po' la partita se segnano loro, quindi diciamo che abbiamo gestito abbastanza bene e siamo soddisfatti, poi i margini di miglioramento ce ne sono sempre. Ok perfetto, domani finale, come vi avete un po' la prospettiva di rincontrare la Corea e chi sperereste di trovare tra i due? Ma Corea e Norvegia sono comunque due squadre con le quali abbiamo giocato spesso e comunque con le quali ci giochiamo la partita sempre, quindi in base a chi incontreremo prepareremo la partita. Ok grazie mille, ancora complimenti in bocca al lupo per domani. Grazie, viva il lupo.